bella a tutti ragazzi sono Mattia05 sono qui per far vedere una cosa bellissima su fortnite che ha fatto un mio amico allora intanto io gioco su ps4 e anche questo mio amico vabbè raga io vi farò vedere questo video e questa cosa che ha fatto un mio amico fichissimissima peccato che questo mio amico non ha la skin io ovviamente ce l'ho però lui non ce l'ha non c'ha piccone non c'ha deltapla non c'ho niente lui non ha scioppato niente e non c'ha manco giustizia arancione quindi raga tutto normale raga e io invece ho tutto scioppato vabbè non ho però completato il pass macchissime adesso noi dobbiamo vedere questo video fantastico ci ha fatto il nostro amico però prima di iniziare raga vi dico di lasciare tantissimi like perché veramente questo video sarà bellissimo proprio bellissimissimo e quindi lasciate tanti mi piace condividete il video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e raga prima di iniziare fate queste cose veramente cioè perché vi sta per aspettare un video bellissimo comunque sigla allora raga guardiamo sto video allora qua lui è sbagliato che ha piazzato la trappola comunque non è questa la cosa figa arriva dopo guardate intanto raga la costruzione gigantesca che ha fatto altissima e poi adesso vedrete guardate guardate la costruzione gigantesca vabbè arriviamo al punto vediamo un po' che cosa fa vuole far vuole far cadere questa torre e poi raga voi vedrete cosa succederà e poi raga voi vedrete cosa succederà e poi raga voi vedrete cosa succederà voi vi chiederete come mai non cade lui a questo punto pensa che sia per l'albero inizialmente ma invece non è vero questa costruzione non cade perché c'è la scala che la tiene in bilico però adesso vedrete che cosa succederà lui spaccherà la scala perché capisce e guardate una donna è caduta tutta raga e vabbè avete visto mamma mia che roba raga spero che io spero che questo video vi sia piaciuto tanto perciò fate quello che vi ho detto all'inizio perché questo video merita secondo me e adesso ci salutiamo raga poi allora intanto dopo io in questi giorni dovrei tra qualche settimana non lo so quando mi giro farò un video vabbè in futuro farò un video ehm farò un video di me che gioco a Fortnite ehm quindi attivate la campanella e iscrivetevi e ciao 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 ciao